Sir, il canale è vostro, però giusto che adesso finalmente siamo in una live insieme che non l'abbiamo mai fatta e tanti, adesso non so quanti ce ne sono che stanno guardando, tanti ti fanno a te la stessa domanda e a me la stessa domanda sulla nostra iniziale discussione. Ah, Berardi. Mimmo Berardi, vogliamo chiarire sta cosa così? Esatto. La sanno tutti e basta? Diciamolo, è un pippone, poi possiamo mettere lo spezzone su TikTok così la finiamo. Vero. Allora parto io sul discorso, se Ia fa fotocamera, dai, non mi prende per il cu. Gnafa, gnafa. Vabbè, comunque sia, sul discorso di Berardi io so, come posso dire, amo i calciatori che vengono criticati. Per esempio ho un amore per Ciro Immobile, soprattutto questo amore è nato quando c'è stata le critiche in nazionale. Oh, io sono fatto così. Come Fred, io Fred lo amo perché viene criticato. Eh, quando i giocatori vengono criticati io li amo. No, non ti so fermare questa cosa, vai avanti. Ti faccio parlare, mi segno tutto, poi ti rispondo a tutto. Allora, Berardi, Berardi, allora, forse sai cos'è? Che io all'inizio... Parti con Immobile che è un pippone. Immobile è un'altra storia, è un'altra situazione. Immobile è un'altra storia, è un'altra situazione, che se poi dopo ne parliamo, Immobile è un'altra storia. Berardi, a parer mio Berardi, e forse non si è capito su quel video che ho fatto io, è che io, per me, Berardi meritava la convocazione, però non il posto da titolare. Cioè, a parer mio Berardi è un giocatore che può piacere come non può piacere, perché ovviamente ha dei limiti, se sta al Sassuolo è ovvio che non è Messi, ha dei limiti. Ed è ovvio però che per me il calciatore, per quello che ha fatto al Sassuolo, meritava di essere convocato. Questo era il discorso. Eh, penso che ho finito, perché mi sembra che era quello. Vabbè. Prima che inizi tu, Marco, vorrei dire che ha detto, Berardi non è Messi, non è Ronaldo, quindi questo vuol dire che sì, preferisce. Eh no, perché gioca su quella fascia lì e quindi... Eh, tu si fa a parlare dopo, bravi. Però comunque, Marco potrebbe anche non rispondere, perché ho già visto che mentre si parlava Marco, guardo proprio a terra come per dire, no. No, non mi stavo segnando le cose, ho segnato tutto quello che ha detto. I punti chiave. Allora, parto con dirti che quindi sei un masochista, perché tu hai iniziato il discorso col dire mi piacciono i giocatori criticati, no? Sempre stato così, sempre. Fin da piccolo. Quindi sei masochista. Poi, che meritava la convocazione nazionale, lì è vero, il discorso è nato dalla nazionale, che erano gli europei, che meritava la convocazione, secondo me, ci può anche stare, ma se tu me lo paragoni, a Bernardeschi non c'è storia, perché Mancini ha sempre stravisto per Bernardeschi, e Bernardeschi quindi l'avrebbe convocato a prescindere da qualsiasi altro gioco. Bernardeschi infatti lasciando... No, perché poi i napoletani e chi poi è andato dietro a te ha tirato fuori il discorso Bernardeschi. Raga, Bernardeschi per Mancini è il suo amante. Cioè, Mancini partirebbe a fare le convocazioni, Bernardeschi e poi tutti gli altri. Cioè, dovete capire quello, perché lui in Bernardeschi non so che cosa ci vede, però lui stravede per Bernardeschi. Punto. Quindi partiamo da questo presupposto, che io l'ho messo invece in ballottaggio con Politano. Politano. Ok. Erano due giocatori che hanno giocato entrambi in amichevoli, ma non in partite ufficiali, prima dell'europeo. Correggetemi, eh, se sbaglio. Intendi con la nazionale? Sì, con la nazionale. Ah, ok. Quindi, tra i due, ancora adesso lo dico, eh, ancora adesso, per me è meglio Politano. Per me è meglio Politano. Per me è meglio Brandi. Adesso ti vado nel dettaglio. Tu hai parlato di quello che ha fatto con il Sassuolo. Lui ha fatto 17 gol, ti ricordo che 10 su rigore. Sì, mi sembra di sì, mi pare di sì, sì. Quindi ne ha fatti sette. Cosa ha fatto con il Sassuolo? Allora, guarda, io, sai cos'è? Allora, praticamente, ti spiego. In pratica io sono un amante di un uomo che mi sa che a voi non vi sta dando simpatico. Che è De Zerbi. No, perché? È sopravvalutato. Ecco, intendo quello, cioè, nel senso, è sopravvalutato. Io sono un amante di De Zerbi. Quando io ho sentito De Zerbi elogiare Berardi in una maniera giusta a parer mio, perché il calciatore per me merita una squadra ancora più alta a parer mio. Per me Berardi mi è caduta la terra, scusa. Cioè, nel senso, da come so io, anche il Leicester si è fatto avanti per Mimmo. È mica che è una squadra di fenomeni. Marco, in una Lazio tipo, non ce lo vedresti? No. Adesso o nemmeno io? Sai dove lo vedevo prima di quest'anno, bene? Al Milan, perché c'era Salemakers. Però adesso Salemakers sta facendo anche bene. Secondo me Salemakers è meglio di Berardi. Io lo preferisco. Eh, io, ragazzi, Mimmo lo amo. Poi, aspetta. Io lo porterei in grebo. Aspetta, Lori, aspetta. Poi non ho finito il discorso. Ti vado a livello tecnico. Secondo me Domenico Berardi ha avuto anche un problema di scuola calcio. Adesso tutti mi criticheranno perché dicono tu fai l'insegnante e tutto qua. No, io ti parlo a livello tecnico. Che a Berardi, a vederlo giocare, a correre, ma io lo dico anche di Bernardeschi, lo dico anche di Kulusevski, lo dico, lo dico anche... Ha problemi di coordinazione atletica. Ovvero, che non sa correre. non sa correre. Vabbè, così è tipo il dono. È un problema atletico. Allora, la coordinazione te la insegnano nella scuola calcio perché ti fanno fare tutti gli esercizi per diventare poi coordinato nella corsa, nel controllo palla, nel passaggio e tutto quanto. Quando io, tu mi avevi criticato in quel video lì che gli ho detto non ha un controllo palla. Ha lo stesso problema di Morata che io stoppo la palla per stopparla da fermo e invece la palla mi va a due metri. Vuol dire che non hai un controllo palla. Capito? È quello che dico io. Poi, quando dico che è un pippone, sto scherzando, sto esagerando, per l'amor di Dio. Però, secondo me, è un giocatore che può giocare solo in squadra a livello del Sassuolo. Cioè, non può giocare in una big. No, no, ma ci sta, ci sta. Dopo ti ripeto, io in quel periodo era inizio TikTok, quindi non capivo anche come, cioè nel senso, come interpretare le parole, capito? Perché anche adesso ti ho detto pippone, che non è realmente il significato, cioè nel senso, lo dici per, comunque sia, perché su TikTok è funzione, è una cosa che funziona. Per esasperare la cosa, certo. Eh, io era all'inizio, quindi quella cosa non la capivo. poi ho sbagliato anche il modo io in quel video, eh, ho sempre detto, quando ho iniziato a fare live ho sbagliato il modo perché non era in una maniera educata. Il modo l'ho sbagliato anche io che ti ho fatto lo stitch dicendo, cioè, tu adesso non mi devi far svegliare che rispondi a un commento poi di un mio amico che è Pasquale Inter. Ho sbagliato anche io il modo. Eh, però, l'izzata l'ho data io, capito? l'ho inzata io, capito? Perché io ho sbagliato il modo ma perché ero all'inizio, capito? E non sapevo come gestire la situazione, capito? Come dire la mia perché era la prima volta che rispondevo, rispondevo, facevo un video sul video di un'altra persona. Quindi ho sbagliato anche il modo in quel caso. Infatti lì ti chiedo scusa perché il rispetto viene prima di tutto. Non sto scherzando. Ci mancheria pure. Sul discorso del Mimmo... Che l'hai fatto troppo lungo, che mi è stato ascoltarmelo tutto e era troppo lungo. E sul discorso del Mimmo ti ripeto, io... Ovviamente non stiamo a parlare di un top player. Stiamo parlando di un buon giocatore a parer mio. È un giocatore che può piacere come no. Però sai cos'è successo? Che è stato interpretato male il mio video. Perché la CENTA ha pensato che io dicevo che Berardi doveva andare a posto di chiesa. Che non era quella mia intenzione che posso aver sbagliato io. Perché poteva sembrare quella cosa. Ma io tendevo che da Pankhinaro come seconda scelta Berardi per me rimane un ottimo giocatore in nazionale. E a me all'inizio mi avevano interpretato male perché facendo questo discorso qua pensavano che io volessi chiesa titolare. Invece io all'inizio non stavo più parlando di chiesa titolare. Stavo parlando semplicemente che Berardi secondo me doveva ricedere il posto apolitano in nazionale. Non volevo chiesa titolare. Però poi chiesa titolare vi ha fatto vincere l'Europeo. Ma io non l'ho detto. Vero? No no aspetta Senti in Inghilterra. Aspetta. Ma no non lo dì non lo dì che se c'è credo nella fine che non è neanche vera sta cosa. Io quando quando ho sbagliato il rigore Rashford per quanto era dello United ho goduto come un porco però sì c'è nel senso l'opinione ci sta a me ti ripeto qualche volta se vedi che non è un giocatore che può giocare nel Real Madrid per esempio adesso prendo esempio Chiesa che era il dibattito Chiesa adesso lo può giocare anche nel Real Madrid da titolare Berardi no ma anche no speriamo di no però io Berardi continuo dell'idea che lo prenderei in grembo a nuoto e lo porterei a Manchester come Ciro farei due casse farei due casse metto Ciro da qua e Berardi da là e me li porco e adesso visto che è toccato immobile ma Ciro lo sai che se cambia squadra fa cagare vero? Allora per me Ciro allora appare a mio Ciro immobile è un giocatore che in nazionale non rende ma è orrendo ma aspetta però col Torino ha funzionato col Borussia mi sembra ha fatto gol in Champions ma poco tu stai dicendo quando giocava nel Torino quando giocava nel Torino era forte chi ci aveva di fianco era una coppia era Cerci se non sbaglio no Robben Robben ma va a farlo eh Cerci Robben ma che sta all'attimo no lui sta dicendo no sta dicendo così perché Cerci quando era nato era stato paragonato a Robben è vero e Robben italiano esatto e poi invece ha fatto cagare che fine ha fatto Cerci adesso non lo so era andato all'Atletico mi ricordo poi Simeone l'ha cacciato dalla rosa perché fatto sta che Ciro allora io Ciro me lo ricordo al Torino al Torino l'ho amato mi piaceva tanto per quanto mi padre mi diceva gioca al Torino che cazzo dici che mi padre è Juventino poi dopo è andato all'estero e io non l'ho guardato più poi è tornato poi è tornato in Italia è arrivato alla Lazio e lei io l'ho amato io lo amo per calciatore sì allora io di solito gol di tacco gol di culo gol di spalla gol di testa sì sì allora Cazzano di solito diceva un sacco di boiate ok però ha ragione ha detto il fatto che Ciro Immobile non sa giocare a calcio se tu la interpreti bene ha ragione perché Ciro Immobile non ti sa portare palla se io fossi immobile io ti posso prendere io ti posso prendere la partita con la Roma l'ultima partita con la Roma chi è che ha fatto impazziti i fezzori della Roma Ciro Immobile chi è che non ha fatto vedere palla chi è che ha zompato lui Patricio ha zompato lui Patricio nella Lazio nella Lazio sì ma se lo metti in un'altra squadra Ciro Immobile è peggio di Berardi giocano tutti per lui Sir capisci come col Torino ma ci stanno tanti i calciatori che giocano tutti per lui e funzionano per esempio adesso per esempio Hood del Barney giocano tutti per lui e lui è un giocatore che fa 10 quindi ci colla a stagione ed è un giocatore che non lo guarda nessuno non è un top player però è un calciatore che è importante per la squadra e se è importante vuol dire che sa giocare perché se uno fa 25 gol a stagione vuol dire che sa giocare sì ma ok però ecco il problema di Immobile è stato quello che ha vinto la Scarpa d'Oro e quindi adesso si basano tutti su quello no la Scarpa d'Oro non ne parlo mai non è solo quello perché il vero calciatore il forte il giocatore forte il top player come si chiama è quello che lo metti in qualsiasi squadra ti cambia la partita quando è nei momenti di difficoltà ti cambia la partita cioè mi dispiace dirlo ma Chiesa è uno che ti cambia la partita quando è in difficoltà la squadra ma sai anche chi Marco ma per me oh aspetta io dove lo hai detto calma Ciro Immobile è un ottimo giocatore ma non è un top player per me i top player sono Salah sono questi calciatori qua lui per me è un ottimo giocatore che porterei e ripeto a nuoto a Old Trafford lo metterei lì come statua al posto di nessuno no come immagine questa si fa di banchina a vederlo lì lo vedrei lì dopo capire cioè a parer mio ti ripeto pure per me Ciro se tipo io ho fatto sempre questo esempio qua Ciro in questo momento se ha dei sportivi dei obiettivi soprattutto tu Davide che sei rumanista in quale delle squadre in quale di qualsiasi squadra italiana no su qualsiasi squadra dov'è che Ciro non gioca all'Inter gioca all'Inter gioca alla Fiorentina vabbè c'è Vlaovic a Roma a Roma non frega il posto Abraham no per me no anche secondo me Sì ma tu lo stai vedendo giocare a Abraham per il gioco ti dico ti dico alla Juve sì alla Juve sì al Milan sì al Napoli no perché a Napoli pure per me no poi chi c'è all'Inter sì in questo momento sì perché ce l'avrebbero bisogno secondo me un attaccante del genere però c'è un punto di domanda c'è un però Sir immobile con il centrocampo della Juve col centrocampo del Milan col centrocampo dell'Inter può dare lo stesso che dalla Lazio secondo me no ovviamente bisogna vedere come come lo lo fai giocare nel nel senso io non li voglio paragonare perché per me Gonzalo Higuain rimane uno degli attaccanti che ho sempre amato e amerò per sempre no stai calmo Gonzalo al Napoli era palesemente devastante è andato la Juventus aspetta è andato la Juventus è stato devastante ugualmente ma con un rendimento inferiore e sai perché è normale che si giocava in modo diverso dopo che lui ha una qualità Higuain ha una qualità devastante quindi riesce sempre a trovarse bene in qualsiasi squadra perché ha una qualità diversa dagli altri attaccanti però è ovvio che Ciro se tu lo mandi alla Juve è normale che non fa 25 gol perché la Juventus non gioca tutta per te e invece ti dirò e invece ti dirò secondo me tra le tre che ti ho detto ovvero Milan, Juve e Inter si troverebbe molto meglio alla Juve che nelle altre due sai perché? perché? c'è Bonucci c'è Bonucci che fa i lanci in contropiede e lui vuole quello la palla sulla corsa lui non vuole giocare spalle alla porta lui vuole giocare con la palla sulla corsa quindi con il gioco di Allegri con il gioco di Allegri immobile secondo me si troverebbe meglio ma comunque in qualsiasi caso non lo voglio però il discorso che ti stavo facendo prima sulla differenza tra un Higuain che è passato da giocare dal Napoli che tutti giocavano su di lui a una Juventus dove ognuno alla fine si gioca di squadra è passato comunque a fare secondo me ancora di più di quello che faceva Napoli perché la Juve si è sbattuto molto di più giocava di squadra giocava di squadra perché perché tecnicamente è un giocatore sì sì perché Higuain per me è stato e sarà sempre un top player perché per me Higuain è un top player immobile è un buon attaccante un ottimo attaccante il problema che in Italia io la cosa che non sopporto mi sono attaccato tanto nei confronti di Ciro perché io non sopporto l'odio che si è creato nei confronti di quel ragazzo perché quel ragazzo essenzialmente che colpa ha se in nazionale non funziona cioè essenzialmente quell'uomo viene convocato non può dire di no alla sua nazione perché se ero io Ciro se ero io Ciro se ero io Ciro io dopo la partita con l'Austria se ero io Ciro dopo la partita con l'Austria io facevo Mancini io me levo dai coglioni fai giocare che ti pare io non ci sto più fai metti Bernardeschi o metti Berardi prima punta o chi è sa quello che vuoi io vado via però però a parer mio io non l'ho sopportato perché vi ripeto io sono del parer ci avete pienamente ragione sul fatto che non gioca bene il nazionale perché sarei matto a di che gioca bene perché ha delle difficoltà però tutto quell'odio che si riserva verso quell'uomo vabbè l'odio l'odio sono una merda romanisti che gli danno del finito del giocatore di merda che non sa fare nulla no no quello no ma il mio le mie critiche nazionali sono arrivate più che altro per errori che magari noi stiamo parlando qua di non gioca come nella Lazio non ci mettono i palloni ma ci sono stati degli errori davanti al portiere ad esempio la spara in curva ma tu devi capire una cosa quelli non sono errori per i palloni come ci arrivano allora io ti faccio giocare in un ambiente dove ti ossannano come un dio poi ti faccio giocare in un ambiente che ti sputano in faccia spiegami come come giochi lui passa da un ambiente come la Lazio che non mi è venita a prendere in giro perché io i laziali li conosco cioè ho amici laziali che lo ossannano come un dio c'è chi lo dice l'ottavo re di Roma che è esacerato però è per farvi capire quanto per la Lazio no è esacerato non è paragonabile a Totti non si può paragonare perché Totti era un altro giocatore però per la Lazio per i laziali Ciro è un dio sì è fenomenale passa da lì a giocare in una in una nazionale in una squadra dove gli sputano perché essenzialmente gli mancano di rispetto di tutte le maniere perché io ho visto gente alzo le mani persone che proprio l'hanno massacrato alla persona non al calciatore alla persona a Ciro non a immobile quello che c'è il numero dietro anche Morata cosa dovrebbe dire anche Morata è la stessa cosa che devo pure io perché tanti cioè il calo di Morata Morata appare il mio prima i primi anni della Juve quando era arrivato la prima volta era forte era innegabile sta cosa era un buon giocatore discontinuo però mi piace di più buon giocatore che forte è un buon giocatore non era un top player ma era un buon giocatore è andato via è andato a Chelsea il Chelsea l'ha distrutto l'ha distrutto mentalmente e lui lui non so se la sapete la storia lui ha avuto dei problemi lui è dovuto andare se non erro è andato anche da uno psicologo per problemi sì lo sapevo perché in Inghilterra chi ha vissuto quel periodo del Chelsea metteva i brividi cartelloni insulti parole sui social lui è tornato con una mentalità ormai deviata perché era deviato ma anche i primi tempi della Juve perché caratterialmente a parer mio un top player cos'è? è un giocatore che riesce anche a superare le critiche per esempio Ronaldo Ronaldo è un giocatore che più più lo zurdi e più lui diventa forte Messi la stessa cosa invece ci stanno tanti giocatori come Ciro che caratterialmente si fanno condizionare ed è per questo che non sono top player ma sono buoni giocatori si fanno condizionare e in Italia non riescono a rendere io a parer mio anche perché c'è le critiche maggiore che sono arrivate ai immobili sull'europeo è stato doveva convocare qualcun altro però io secondo me non c'era nessun altro da convocare eh però immaginate sentisse queste cose perché comunque sia Ciro io mi metto nei panni io ho sempre criticato anche Mancini perché su alcune scelte di Mancini proprio non le condivido però comunque sul fattore immobile io dico chi mi portavo cioè Keen si vede il giocatore che è quindi sarà vero che hanno litigato quindi hanno un problema caratteriale non l'ha portato per quello però comunque secondo me non c'era un giocatore che ti portavi Raspadori potevi dare la possibilità a Raspadori Scamacca però cioè sono tutti punti di domanda punti interrogativi io in questo momento spero vivamente che Ciro rifiuti la prossima convocazione lo spero con tutto il cuore perché l'Italia l'Italia non si merita Ciro e Ciro non si merita questi comportamenti appare il mio perché quando tu è come quando io vedo quell'odio represso nei confronti di Fred perché allora la critica ci sta l'odio no l'odio nello sport non deve esistere quando io vedo quell'odio dico vai cioè non ci vieni più il nazionale perché non te conviene si sono attaccato tanto a Ciro è che con Ciro si è superati i livelli e adesso che Ciro non c'era si sono attaccati tutte Insigne adesso Insigne è il mostro l'uomo che deve andare nella caverna l'uomo che deve andare nella caverna perché ha sbagliato un gol che è vero è stato un errore grosso grossolano per un giocatore con Insigne ma tutto quell'odio represso cazzo abbiamo vinto un europeo ma che cazzo ce ne frega cioè a parer mio io Ciro ho fatto schifo il nazionale è vero ma che me ne frega a parer mio è come se vinco la Champions con lo United e Fred mi fa una Champions di merda ma che me ne frega ma io lo porto sul tetto d'Europa non me ne frega niente a parer mio ma il problema di Ciro non è che gioca male proprio che non gioca proprio che lui scende in campo e non tocca palla o quando tocca palla sbaglia ogni passaggio ma anche quello è il problema che uno uno se lo sorpisce da tanti anni si dice immobile fa sfracelli e poi alla razza fa gli sfracelli poi in Italia non tocca manco un pallone capisco la frustrazione stranamente stranamente spezzerò una lancia a favore perché adesso Sir mi ha fatto ragionare un attimo però effettivamente guarda che la bellezza dell'opinionista io mi chiamo opinionista è che cambio anche idea non è che rimango fissato sulle mie idee e effettivamente però se c'è tanta pressione addosso posso anche capirlo non giochi anche per quello che non ce la fai la pressione fa brutti scherzi io perché non ho mai studiato mi sembra che tu Marco poi c'hai il patentino allenatore se non sbaglio io non ho mai studiato però ho letto tanti libri tanti ho letto il libro di Bielsa ho letto il libro di Beppo ho letto tanti libri e su questi libri c'è sempre dei capitoli che parla della psicologia del calciatore l'ambiente il corso allenatore il base il corso allenatore base su cento ore cinquanta ore sono di psicologia Peppa sempre tu non puoi trattare tu non puoi trattare soprattutto quando alleni i ragazzini non puoi trattare la stessa persona cioè io non posso trattare te come tratto Davide perché se io urlo dietro a Davide magari mi rende cento se urlo dietro a te ti abbatti e non giochi più quindi il corso d'allenatore la metà delle ore sono di psicologia infatti io leggendo questi libri ho capito che nel calcio c'è un punto fondamentale che noi tifosi che stiamo sul televisore non ci rendiamo conto che è il cervello che questi calciatori quando batte quando parte il fischio vivono un altro mondo in un'altra situazione stanno stanno in un mondo dove tutti sono pronti e sta col titolo lì di ah hai sbagliato quello hai sbagliato quell'altro è una cosa sbagliata però però il discorso è che tu non puoi sbagliare ogni partita io capisco una ogni tanto ma vedi il segno è criticato è proprio per questo immobile manco quello poi il segno è odiato perché c'ha la 10 perché c'ha la vocina qua la 10 ce l'ha avuta anche Bernardeschi ma per questo ma per questo Bernardeschi tutto rispetto è per questo è per questo l'orezzo che ti do pienamente ragione ed è per questo che io spero che Ciro rifiuti la nazionale devi rifiutarla perché se siamo giusti che la nazionale non va bene per Ciro e Ciro non va bene per la nazionale fino a qui siamo tutti d'accordo che senso ha continuare questo rapporto di odio perché non c'è amore ma perché non c'è secondo me ancora un giocatore pronto per fare il 9 nazionale è quello io se dovessi fare le convocazioni oggi chi è che mi porto al posto di immobile cioè Belotti ha gli stessi problemi di immobile secondo me sì oppure Belotti è fantastico quindi anche Belotti gli do un'occasione a Belotti no piuttosto gliela do a Raspadori che è un giovane è per questo io spero vivamente che Kinn o Raspadori faccia una stagione esemplare e portino al mondiale perché io non riesco io non riuscirò a vedere la nazionale non puntare su Kinn io non riuscirò a vedere la nazionale al mondiale o sta con i social perché non riuscirò a vedere la nazionale al mondiale con Ciro è la fine io voglio vedere Scamacca a me Scamacca piace tanto al mondiale lo distruggono o no in campionato non sta facendo benissimo Scamacca ma allora io l'ho entrato con la Roma non so se l'hai vista Sassuolo Roma no no Scamacca ha fatto lì sfracelli ma cioè sembrava Lewandowski nella miglior partita dell'anno ha fatto un gol che gli è stato annullato al 95esimo che roba da giocatorone vatti Giro vatti a rivedere la partita le parti finali quando entra Scamacca le ultime 5-6 azioni se le crea lui da sportellata a Mancini che comunque non è che è piccolino come giocatore però non so perché non trova spazio è strano infatti non fa perché c'è fa panchina quello Dionisi se non mi sbaglio all'Empoli giocava con due attaccanti adesso Stassuolo sto giocando con uno è un altro tipo di squadra cioè l'allenatore bravo è quello che va in una squadra e cambia certo certo però magari poteva riproporla con Scamacca e Raspadori davanti sì sì poteva provare magari però l'ha provata in allenamento non lo sappiamo e non gli è piaciuta non ha convinto può essere tante cose grazie